Sulla 1 Milano-Napoli, l'uscita di Melegnano chiusa al traffico per lavori ogni notte, dalle 21 alle 5, dal 16 al 21 maggio, che esce da Milano consigliato Bivio, tangenziale Ovest, Rozzano su A50, verso Milano, entrata consigliata San Giuliano. Sempre sulla 1 tratto chiuso per lavori tra Barberino di Mugello e Aglio, chilometro 255, direzione Bologna, dalle 21 alle 6, il 19 e il 20 maggio. A Pescara chiuso al traffico per lavori Bivio A25 e A14 Bologna-Taranto, dalle 22 alle 6, dal 18 al 20 maggio. A Pescara chiuso al traffico per lavori Bologna-Taranto,